E ora dalle funzioni passiamo al prossimo argomento, gli oggetti. Gli oggetti probabilmente sono in JavaScript una di quelle cose che forse è più stupido. E noi finalmente con TypeScript riusciremo a risolvere la stupidità di questa tipologia di dato, questa tipologia di struttura. Andiamo subito a vedere come lavorare effettivamente con i nostri oggetti. Andiamo prima a dire al compilatore che deve guardare questo file. Qui ci spostiamo in cd01.basi, un attimino, e diciamo tsc.wobjects.ts. Ok, ora quando salviamo lo deve andare a compilare e crearci il nostro file oggetto.js. Perfetto, possiamo continuare. Chiudiamo il terminale e andiamo avanti. Criamo per primo il nostro user che chiameremo di nome Anna di cognome da Roma, gli segneremo una mail e andremo a dire che a AnnaChiocciolaEviva.it, ad esempio. E questo è il nostro user. Come vedete lui va a inferire come tipologia che a nome si deve segnare una stringa, che a cognome è una stringa, che a mail è una stringa. Magari aggiungiamo uno diverso, diciamo isPaid. E mettiamo true. Ora ammettiamo di aver bisogno di una funzione per andare a creare un nostro utente, chiamiamolo pagante. Quindi andiamo a definire la nostra funzione, che si chiama createUser, che ha bisogno, definiamola così, const. CreateUser, che sarà uguale a... Dopo scriviamo tutto quanto bene. Adesso andiamo a solo definire la funzione così, non piange. E andiamo a dire che deve accettare un oggetto che avrà name, nome, scusatemi, che poi in realtà non cambia nulla. Nome, cognome, e lì andiamo a mettere isPaid. Ora andiamo a definire il type. Il type si va a definire in questa posizione, quindi si vanno a dare i due punti e poi si va a dire che accetta, appunto, nome, che è una stringa. Cognome, che è una stringa, e isPaid, che è un booleano. Ok, andiamo a salvare. E volessimo ottenere in return, diciamo, questo oggetto, dobbiamo andare proprio in questo punto a aggiungere questa scrittura. L'ho messa due volte. Ok. In questo modo, magari andiamo a salvare formattando. Normalmente britter come formattatore, ok. In modo che lui vada a capo in questo modo un pochino più, più furbo. Ora, l'errore che vedete è perché la nostra funzione sta ritornando quello che effettivamente è void, oppure any, oppure undefined. Quindi non sta ritornando questo tipo di oggetto. Quindi a questo punto io posso andare a dire che lui ritorna esattamente questa roba qua. Se ora vado a passare a create user, quello che è uno user, quindi andiamo a crearci. Con nome gli diamo Vittorio, dopodiché lui vuole quello che è un cognome. Cognome, anche lui avrà da Roma. Roma, andiamo in Spade, true anche a lui. E il nostro create user effettivamente funziona e ci ritornerà quello che è un utente nuovo. Ora, se io andassi a questo punto a passare a create user, quello che è il nostro user, ecco che io ho... E ora per concludere andiamo a passare al nostro create user, il valore di user. E voi direte, oh, tutto a posto, funziona tutto bene. C'è un piccolo problema però nei comportamenti stupidi di JavaScript, che comunque riescono a persistere in tutti i modi. Come vedete, il nostro user non ha solo nome, cognome e ispade come richiesto dalla nostra funzione, ma si porta dietro anche mail. E la nostra funzione non si sta lamentando in nessuno, lui può poter raggiungere tutti i campi che voglio e lui non si lamenterebbe mai. Al contrario, se ne togliessi uno che è richiesto, invece, lui andrebbe a piangere. Diciamo che alla nostra funzione non gliene frega assolutamente nulla, che esista anche il campo mail. Essa comunque continua a funzionare nella maniera corretta e restituire lo stesso tipo di oggetto. Il problema è che magari nel nostro nuovo user, che andiamo a crearci, ci perdiamo poi un pezzo che magari più avanti ci potrebbe servire. Quindi, generalmente, occhio a questo tipo di comportamento. Un'altra cosa un po' strana è che uno debba sempre portarsi un po' questa agonia in giro per il proprio codice, senza poterla riassumere. Nella prossima lezione andremo proprio a vedere come andare a sintetizzare questo tipo di sintassi in un metodo un pochino più semplice e soprattutto ripetibile e riproducibile. Andiamo a salvare questa cosa incredibile. Vediamo se nel nostro object.js c'è qualcosa di strano. Sono solo un po' di cose strane, ma per il resto è tutto normale. Perfetto. Andiamo alla prossima lezione. Ah, già qua si porta dietro sempre questo gioco qua. Questo gioco qua semplicemente va a definire questo tipo di scrittura che è un funzionamento di come JavaScript va ad esportare i propri moduli per essere poi ricomposti all'interno di quello che è un'applicazione e andare a riordinare in maniera molto semplice. Questo si risolve andando a generare un file di configurazione tsconfig che vada a dare indicazione alla nostra applicazione di dove andare, diciamo, a espellere questi file buildati in modo che dopo sia più semplice per lui andarli a ricomporli in un unico file. Ma questo è un discorso che in questo momento a noi non interessa solo per chiedervi cosa vuol dire questo gioco furioso qua di avere sempre questo export della parentesi vuota al fondo.